A conclusione dei quattro congressi provinciali prosegue l'opera di consolidamento e organizzazione sul territorio di azioni in Abruzzo, con il primo congresso regionale della storia del giovane partito in programma nel pomeriggio in modalità online. Saranno collegati tramite la piattaforma Zoom a partire dalle 15.30 100 membri dei direttivi dei quattro coordinamenti provinciali, nonché ospiti importanti quali rappresentanti istituzionali, amministratori, imprenditori e professionisti, ma anche numerosi esponenti di altri partiti politici che guardano con interesse e curiosità all'evolversi del partito di Carlo Calenda. Tutto pronto, oggi pomeriggio abbiamo la nostra assemblea che è frutto delle quattro assemblee provinciali della nostra regione, quindi i nostri delegati, 100 delegati oggi insieme al direttivo saranno presenti in collegamento in base alla attuale normativa Covid, però siamo contenti appunto perché il primo congresso è anche una prima fase di un lavoro importante che abbiamo fatto in Abruzzo con oltre 750 tesserati, 25 comitati promotori, una classe dirigente che si è messa con genosità al servizio della propria regione e quindi da oggi lanceremo anche dei messaggi ben precisi che vogliamo portare avanti, come ad esempio un piano regionale di resilienza e sviluppo per la nostra regione in vista del rinnovo del Presidente del Consiglio regionale, dove azione vorrà comunque giocare una partita importante. Oggi verrà anche riconfermata la sua figura? Sì, perché è l'unico candidato e quindi sarò riconfermato, il riconoscimento anche di un lavoro fatto, sono molto contento, ma sono soprattutto contento della squadra che sto allestendo di uomini e donne che hanno deciso di dedicare tempo, energie e risorse per il nostro progetto e per la nostra comunità. Questo è un momento di orgoglio per me perché sento anche la responsabilità di aver avviato un progetto e che questo progetto si consolida sempre di più e oggi è un giorno importante. Sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook, mia personale Giulio Sottanelli, abbiamo voluto proprio renderla pubblica, purtroppo il Covid ci ha impedito di fare un grande evento, però vogliamo con i mezzi che abbiamo, quindi la disponibilità dei social, farla allargarla a quante più persone possibili. Grazie a tutti.